Svelata la scelta delle coppie che faranno vibrare le emozioni nella nuova edizione del reality invernale Il reality show più discusso e seguito dagli italiani è pronto a tornare con una nuova edizione invernale, e già si parla delle coppie che metteranno alla prova il loro amore nel contesto paradisiaco, e tentatore, di Temptation Island Le aspettative sono alte e, come ogni anno, l'annuncio delle coppie partecipanti ha suscitato grande curiosità tra i fan, desiderosi di scoprire chi avrà il coraggio di mettersi in gioco Ma cosa si nasconde davvero dietro la scelta delle coppie? Ecco svelata la verità Non è un segreto che Temptation Island sia un reality costruito per generare tensione, emozioni forti e, spesso, rotture clamorose La selezione delle coppie è un processo meticoloso, in cui nulla è lasciato al caso, e questa volta è del tutto incredibile Ogni anno, gli autori ricevono centinaia di candidature, e da queste ne vengono selezionate alcune che rispondono a criteri specifici, storie complesse, relazioni instabili o legami messi alla prova da situazioni difficili Ma chi è stato scelto per questa nuova edizione? Pronti a scoprire la verità? I nuovi volti e le aspettative.Con il lancio della nuova edizione invernale, Temptation Island si prepara a scaldare gli animi anche nei mesi più freddi dell'anno Gli spettatori sono pronti a immergersi nelle vicende dei protagonisti, a tifare per i loro beniamini, e a giudicare le scelte, spesso discutibili, che verranno fatte lungo il cammino Le riprese della nuova edizione autunnale di Temptation Island, uno dei reality show più seguiti in Italia, sono pronte a partire il 23 agosto 2024 in Sardegna, presso il lussuoso resort Tismoras Relais L'edizione, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 10 settembre 2024 Raffaella Mennoia, autrice storica del programma, ha rivelato alcuni dettagli sui criteri di selezione delle coppie partecipanti Durante i casting, Mennoia presta particolare attenzione alle prime impressioni che le storie dei candidati suscitano in lei nei primi 15 minuti di conversazione Ha inoltre ammesso che, in passato, alcune coppie si sono rivelate fake, cioè non autentiche, e che il suo intuito e la strategia di separare i partner durante i colloqui l'aiutano a identificarle Ecco dunque, svelato il vero processo della selezione.L'edizione autunnale mantiene la formula vincente del programma, che vedrà la partecipazione di 6 o 7 coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti Inoltre, è stata confermata una novità, dopo l'edizione autunnale, ci sarà anche un'edizione invernale di Temptation Island, denominata Temptation Island Winter, che inizierà le riprese a fine agosto 2024, sempre in Sardegna